Siamo con il pittore Umberto Pozzi, allora lei ha lavorato con Oliva, lavora con Oliva, avete creato questo atelier, cosa significa lavorare con lui e qual è il valore aggiunto che gli ha dato? Ci siamo conosciuti in Accademia, 30 anni fa, tantissimo, e poi ci frequentiamo, ci siamo sempre frequentati e abbiamo deciso di aprire questo studio agli altri, altre persone, per fare dei corsi di pittura, disegni, e tra me e lui c'è un'amicizia lunghissimo rispetto artistico, anche se siamo diversi artisticamente. C'è qualcosa, perché siete diversi artisticamente? Perché io sono un artista che sperimento materiali, tecniche, e lui invece va più su un figurativo, più classico, però questa unione è importante. Che cosa si crea in questa unione? Si crea un connubio particolare, è quello che mi interessa, proprio perché io sono sperimentatore, e allora uso mezzi diversi, tecniche diverse, e questo ci porta, aveva anche un confronto.